Perchè ci sono venuta già agli anni scorsi e mi piace un sacco e trovo che è interessantissimo, cioè si scoprono delle cose, tipo la questione di Rosarno, cioè io veramente l'ho imparata qua. Non è la prima volta che vengo a queste edizioni politicamente scorette, lo trovo molto interessante sia per conoscere certi argomenti legati al diffondersi invece che regredire della mafia anche sul nostro territorio locale. Perchè mi piace moltissimo Carlotto, perchè sono veneta e mi incuriosiva il titolo. Ho visto che tra i vari presenti c'era anche Carlotto che io leggo molto e quindi ci tenevo a incontrarlo. Grazie a tutti.